eccoci qua buonasera buonasera sognatori buonasera esploratori della coscienza questa sera parliamo di interpretazione dei sogni e dell'importanza di avere insomma considerazione del sogno tanto da interpretare questo di solito avviene quando si impara a farlo in modo autonomo in modo autonomo sì allora l'interpretazione dei sogni è molto utile perché noi nei sogni vediamo il nostro mondo visto da un altro punto di vista quindi nei sogni noi vediamo quello che facciamo nella realtà quello che ci preoccupa quello che ci riguarda lo vediamo sotto un aspetto simbolico quindi con delle scene strane dove ci sono personaggi strani cose che non faremmo mai eccetera ci sembra qualcosa di confuso ci hanno insegnato che questi sogni non hanno di per sé un valore sono cose da bambini non importa non serve stargli appresso tanto insomma servono a poco se non a niente e invece no e invece no ce l'ha dimostrato anche la scienza la psicanalisi e un sacco di altre discipline il sogno parla di noi il sogno è la coscienza che si esprime esprime quello che non esprimiamo durante il giorno buonasera 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 tutti buonasera Anna quindi interpretare i sogni significa conoscere noi stessi noi analizzando il sogno capiamo che siamo coinvolti in un determinato conflitto capiamo che dobbiamo risolvere una determinata questione capiamo anche magari altri problemi di timidezza di comunicazione eccetera quindi ci sono un sacco di informazioni in questi sogni che ci aiutano nella vita quindi io vi invito a scrivere i vostri sogni vedo già un sogno non leggo i nomi ma non importa e perché la pratica dell'interpretazione dei sogni può essere davvero illuminate quindi per fare degli esempi io lo faccio attraverso i sogni che voi mi mandate ne vedo già uno che allora un attimo vado meglio a leggerlo dal pc allora buonasera Daniela la settimana scorsa ho fatto un sogno un po' strano io con la mia mamma defunta giravo con un sacchetto di indumenti vari e usati da donare vaghiamo verso vari uffici presso un edificio dei servizi pubblici ma non riusciamo più a trovare l'ufficio addetto al ritiro dei sacchetti con indumenti mi rivolgo all'ufficio informazioni che non sa cosa dirmi ma in tutta risposta disegna su un foglio bianco il ritratto di mio padre non vedo il resto del commento del ok allora in ogni caso girare con la mamma defunta con un sacchetto di indumenti allora la mamma potrebbe rappresentare una parte di te delle cose che ti mancano di lei eccetera quindi la relazione con tua mamma mentre gli indumenti nel sacchetto gli indumenti hanno un significato molto importante perché i vestiti sono tutti i vestiti che noi indossiamo realmente nella realtà per esempio specialmente noi donne se devo andare a fare la spesa mi vesto in un certo modo se devo andare a una festa mi vesto in un determinato modo se mi devo sposare mi vesto in un altro modo in questo senso i vestiti rappresentano tutte le nostre maschere e gli atteggiamenti che noi mettiamo in opera a seconda delle circostanze quindi in questo sogno ci sono degli abiti già usati e che di cui ti vuoi sbarazzare quindi possono essere abitudini episodi della vita per esempio non so in un momento in cui indossavo un determinato vestito mi sentivo così in un momento in cui avevo un altro vestito era quando mi sono innamorato non lo so quindi vestiti in questo senso rappresentano anche delle fasi della vita rappresentano delle cose che noi siamo stati e che adesso non vogliamo più essere o dobbiamo capire quindi questo sacco che non si riesce a buttare è magari il suggerimento del sogno di valutare se ci sono delle degli atteggiamenti delle abitudini che noi abbiamo che non vanno più bene e che quindi è meglio buttare via però questo buttare via non funziona perché passa attraverso degli uffici pubblici e non c'è l'addetto a ritiro al sacchetto questo suona un po come se il sognatore dovesse avere l'autorizzazione oppure la conferma che deve proprio buttare via e lasciare questi atteggiamenti e queste cose quindi ci vuole un'approvazione quindi sembra quasi che comunque anche se sono da buttare non ci riusciamo ecco mi sembra in sintesi che sia questo vediamo verso la fine mi rivolgo all'ufficio informazioni che non sa cosa dirmi ma in tutta risposta disegna su un foglio bianco il ritratto di mio padre il padre per eccellenza nei sogni rappresenta la massima autorità specialmente per una donna e quindi il fatto di buttare questi atteggiamenti forse il padre non sarebbe d'accordo e quindi le queste credenze che noi abbiamo magari ci bloccano tipo per esempio mio papà mi ha sempre insegnato che questa cosa non si fa e quindi io non l'ho mai fatta quindi possiamo anche riprendere in mano queste cose queste credenze e rivederli come vedete ci sono già altri sogni sì come vedete ogni sogno ha qualcosa da dire adesso io non lo so poi mi darete un feedback purtroppo non vedo i nomi quindi magari scrivetemi ok sul sogno con mia mamma così 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 io mi riesco a gestire i messaggi quindi vediamo il prossimo ho sognato di recente di entrare in un ospedale e di cercare san pio ma non lo trovavo sul finale vedo un frate con il loro abito ma bianco con la barba pensavo fosse lui ma non lo era allora l'ospedale è considerato un luogo di cura quindi in questo senso il sognatore ha bisogno di cura ma non trova ciò che cerca e forse la fede perché il frate con un abito bianco e la barba potrebbe raffigurare dio o comunque una persona molto saggia quindi c'è bisogno di accedere alla propria saggezza oppure trovare qualcosa non so nella religione quindi c'è una ricerca di cura di qualcuno che si prenda cura di te stesso però probabilmente la tua saggezza inconscio potrebbe dire la tua saggezza sa che sai guarirti da solo questo forse vuole dire il sogno un altro il 2 novembre ho sognato mia mamma passata nell'oltre il 25 giugno di quest'anno eravamo in una chiesa gremita di gente c'era una gran festa perché c'erano vicino all'altare diverse tavolate lunghe preparate lei mi è sembrata più giovane e bella le ho fatto i complimenti per i capelli lunghi e lisci lei li portava corti non ricordo se ha detto qualcosa forse ha sorriso mentre la gente uscita io sono rientrata in chiesa per dirle che dovevamo andare ad un'altra festa e l'ho trovata ok allora questo mi sembra un sogno probabilmente un contatto perché la mamma se non c'è ci fa compagnia in una festa in una chiesa una festa grande vicino ad un altare e quindi con tavolate lunghe la condivisione con gli altri lei bella così immagino che un sogno del genere abbia lasciato proprio con un senso di beatitudine credo che sia un messaggio che lei ti vuole dare che sta bene infatti rispetto ai capelli corti i capelli lunghi che sono simbolo di potere ricordiamoci il mito dove tagliano i capelli a sansone perde la forza e quindi i capelli lunghi indicano che lei sta bene che ha forza e che tu puoi andare tranquillo tranquilla ecco questo credo credo che sia allora volevo anche specificare che i sogni comunque nell'interpretazione dei sogni di solito si dice si pensa che vada fatta da uno psicologo o comunque da una persona che ha studiato psicologia psicanalisi psichiatria eccetera in realtà i sogni vanno al di là delle convenzioni ci sono delle interpretazioni standard per cui questo è un simbolo sessuale e lo è per tutti questo è un simbolo di autorità questo un simbolo dell'eroe eccetera invece non è proprio così perché il simbolo ha un suo significato a seconda del significato che ha per noi quindi se io ho paura di guidare se in sogno mi trovo alla guida di una macchina avrò paura è normale ma perché è la mia natura mentre qualcuno che ama fare le corse con i gocardi in pista oppure correre fare le gare con le macchine sarà felice di trovarsi in macchina quindi credo che l'interpretazione dei sogni sia prevalentemente soggettiva e il simbolo a seconda di come ci colpisce ci emoziona ci rimane in mente ha il suo significato di conseguenza quindi ecco l'interpretazione che io posso dare è oggettiva come vedrei io il sogno quindi con i miei vissuti mentre il sognatore quando ha imparato la fa proprio con impara a capire il linguaggio del proprio sogno e anche i simboli detto questo passiamo un altro sogno una sera sono lina ho sognato mio marito defunto che stava in auto con l'ex di mio nipote io l'avevo visto e lui andava dicendo un po preoccupato che io ero gelosa ma lui non stava facendo niente di male che l'aveva incontrata per caso che significa grazie allora in questo sogno dove il marito defunto sta in auto con l'ex del del con la ex del nipote con un'altra donna insomma e mi sembra che sia già scritto dicendo che ero preoccupato perché io ero gelosa e quindi forse si tratta di questo che magari ora non lo so perché il marito non c'è più quindi non so come sia stata la relazione ma si parla in questo sogno di una relazione con della gelosia quindi forse con questo uomo ci sono delle cose da chiarire perché magari può succedere ci sono sempre delle cose non dette e quindi possiamo farlo anche dopo quindi parlare con il marito e dirgli guarda ma dimmi la verità tu mi hai mai tradito perché io ho sempre avuto paura di questo eccetera stasera per favore vieni mentre dormo e dimmi dimmi questa cosa questo pensiero può far scaturire un'altra visione oppure un sogno in cui si parla di questo comunque il sogno lo facciamo noi nasce dalla coscienza che è sempre quella noi pensiamo che siano sono due stati di coscienza diversi ma sono sempre la stessa coscienza quindi quello che noi pensiamo il sogno lo mette in scena mette in scena quelle che secondo lui senza la razionalità senza troppa parte maschile e più animica ci fa vedere come la cosa in realtà perché noi delle volte la ci facciamo di quei pensieri che non hanno un fondamento ecco il sogno magari ci fa vedere anche questo quindi perlina ti consiglio di fare queste domande a tuo marito come se fosse lì vicino a te parlare proprio con lui tu vedrai che ti arriverà un sogno in cui lui ti spiegherà tutte le cose che che tu vuoi sapere questo lo puoi fare tutti i giorni ma ti assicuro che come minimo il terzo giorno qualcosa ti arriva ok vediamo ok non vedo altro quindi ecco ci sono molti simboli nei sogni che sono classici ad esempio la casa la casa rappresenta noi stessi la casa rappresenta nella cucina rappresenta l'armonia della famiglia nella stanza da letto rappresenta la nostra parte più intima la stanza più intima del nostro inconscio il garage la cantina la taverna rappresentano parti più in basso dell'inconscio più verso la nostra parte ombra quindi quando io scendo le scale della cantina e buio e ho paura sto andando nel profondo di me stessa a scoprire che cosa c'è quando invece vado in soffitta o in alto sul tetto io vado più verso la mia parte spirituale verso un cammino spirituale il sogno ogni volta che ci fa vedere dentro una casa questa casa in quel sogno rappresenta noi stessi quindi se io vedo una casa spoglia senza quadri senza un tappeto molto sterile allora vuol dire che io mi sento così in questo momento nella mia vita dovrei mettere qualche quadro qualche cuscino qualche ninnolo qua e là invece molte altre persone fanno dei sogni dicono era casa mia però c'erano stanze che io non ho mai visto ecco in questo caso il sogno ci fa vedere che dentro di noi ci sono delle porte da aprire che magari è il momento e potrebbe significare magari un cambio di lavoro una buona offerta potrebbe indicare non lo so un matrimonio un cambiamento qualcosa che noi aggiungiamo ci sono nuove stanze nella nostra casa e quindi si diventa molto più semplice poi andare a capire che cosa vuol dire questo sogno esattamente come le persone le persone nei sogni sono il nostro specchio ci fanno vedere qualcosa di noi noi magari ci svegliamo abbiamo sognato l'amica che attraversava la strada e cadeva e pensiamo che sia un sogno premonitore invece no invece la l'amica che cade riguarda sempre noi perché noi abbiamo dentro di noi delle parti che sono sue infatti siamo amiche perché ci attiriamo ci compensiamo e quindi magari nel sogno ci fa vedere che anche noi magari qualche volta inciampiamo quindi magari non giudicare eccetera sono tantissime le interpretazioni che possiamo dare dipende sempre dal contesto e dalla persona e dai suoi vissuti allora un altro sogno ho sognato sempre mia sorella defunta che ultimamente aveva i capelli lunghi l'ho sognata con i capelli corti mossi dal vento e lei sempre sorridente con un neonato in braccio e lei sempre sorridente con un neonato in braccio aveva tolto gli occhiali da vista che portava ho preso gli occhiali li ho guardati e li ho posati dove erano davanti a lei allora sorella defunta ultimamente aveva i capelli lunghi l'ho sognata con i capelli corti mossi dal vento sì il taglio netto può indicare anche un grande cambiamento una donna con i capelli lunghi quando l'italia cambia proprio anche aspetto quindi vuol dire che lei ha scelto ha fatto le sue scelte probabilmente dov'è adesso il neonato in braccio non so se lei avesse dei figli o comunque nel sogno il neonato rappresenta un progetto qualcosa di nuovo qualcosa di nuovo che nasce a meno che non ci sia in famiglia qualcuno in gestazione ma in genere il neonato riguarda qualcosa di appena nato un seme piantato che di cui bisogna avere cura perché cresca e quindi può essere anche un progetto può essere un programma che noi abbiamo fatto ecco quindi il fatto degli occhiali gli occhiali servono a vedere e quindi li hai guardati forse guardare gli occhiali di qualcun altro è un po come cercare di vedere il mondo come lo vede lui e quindi in questo senso forse tu hai guardato un po nella tua vita di adesso nella vita di adesso di tua sorella mi piace pensare così sì allora poi c'è ciao io ho sognato la fontana del mio paese ma era piena di cacca ok ok anche questa ha un suo valore per esempio il bagno andare in bagno andare a lavarsi a farsi la doccia in bagno per bisogni personali significa allora andare in bagno per questioni fisiologiche significa eliminare e limità eliminare con l'urina le emozioni mentre andando di corpo diciamo si si elimina sempre qualcosa si elimina un disagio un disturbo io conosco dei bambini che quando litigavano i loro genitori bambina di una mia amica a lei veniva la dissenteria doveva eliminare subito quindi quello che dicono i sogni si applica anche nella realtà solo che non ce ne accorgiamo quindi una fontana del paese piena di feci significa che c'è tanta roba da eliminare proprio una fontana piena di cose da eliminare ma possono essere pensieri possono essere preoccupazioni inutili possono essere cose contro cui ci accaniamo quindi ecco la fontana non so a chi sia riferita ma solitamente mostra al sognatore quello che è e quindi probabilmente in questo sogno c'è molto molto da eliminare quando noi andiamo in bagno nei sogni a fare la doccia a lavarci il bagno è una stanza dove noi ci ripuliamo la doccia ci ripulisce dalle energie come anche la pioggia ci ripulisce dalle energie lava via quindi in bagno noi ci occupiamo di noi stessi delle nostre cose intime di separare di buttare fuori di eliminare eccetera il bagno rappresenta questo quindi quando cerchiamo con urgenza un bagno e non lo troviamo a meno che non abbiamo questo bisogno fisiologico mentre stiamo dormendo allora è comprensibile però quando cerchiamo un bagno però la porta non resta chiusa però è il bagno dei maschi allora non ci possiamo andare eccetera sono tutte urgenze di ripulirci ripulirci a livello energetico a livello di pensieri magari brutti che ci fanno vivere male eccetera quindi nel bagno si fanno queste cose basta vedere che cosa facciamo nel bagno e capiamo subito ok grazie per l'interpretazione del sogno con mia mamma grazie a te daniela ho sognato mia mamma defunta a cui portavo dei jeans sporchi un po di fango ok allora i jeans non sono esattamente adesso non so quanti anni hai però non sono di solito un abbigliamento per una mamma sono più un abbigliamento nella visione classica dei sogni da da uomo e quindi i jeans sono nati per i lavoratori perché erano resistenti sono resistenti sono resistenti quindi possiamo immaginarlo come la mamma resistenti ma sporchi di fango quindi c'è qual sono macchiati di qualcosa e quindi questa mamma forse è andata via con sensi di colpa o magari non lo so non è stata una mamma esemplare oppure qualcuno le ha versato del fango addosso questo non lo so dico questo perché i pantaloni ci vanno dentro le gambe le gambe camminano e quindi magari i passi nella vita di tua mamma sono stati ricoperti di fango può essere anche questo bisogna sempre vedere la mamma com'era com'era la vostra relazione eccetera allora cara daniela scusa avevo dimenticato che precedentemente avevo sognato anche una macchina e stavo io e mio marito e lui guardava e io ho chiesto un attimo più perso e lui mi guardava ed io ho chiesto perché mi guardava e sorrideva e mi ha risposto ma come mi ero combinata come non gli piaceva e gli ho risposto che non mi doveva infastidire e lui mi sorrideva quando era in vita faceva lo stesso vorrei sapere il significato allora rileggo eh in macchina stavo io e mio marito lui mi guardava ed io ho chiesto perché mi guardava e sorrideva ok mi sembra di aver capito quindi può darsi che in questo sogno anche solo il fatto che il marito ti guardasse doveva avere un motivo quindi tu lo controllati molto le sue emozioni infatti lui non ho capito chi era alla guida ma se era il marito alla guida o tu quindi nella tua vita probabilmente con lui tu non lo so credo di capire controllavi molto quello che lui diceva e faceva e quindi lui ridendo ti ripresenta le tue caratteristiche in un sogno perché alla fine lui sorrideva come dire ma cosa vai a pensare ti guardo ti guardo perché sei bella e quindi tu invece a pensare no come come sto come non e quindi può darsi che visto che è scritto in vita faceva lo stesso lui il sogno ti ha regalato un'immagine di lui come come è sempre stato e quindi diciamo sono sono anche dei bei ricordi poi non lo so dipende da da com'era la vostra relazione ok grazie per l'interpretazione allora un altro sogno due file di sacerdoti e l'ultimo non lo conoscevo un'amica mi ha detto che era il padre pio ho chiesto per mio figlio e lui mi ha detto si guarisce ma prima piangi tanto non è molto comprensibile come testo però allora mi pare di capire che l'importante sia si guarisce ma prima piangi tanto e quindi può voler dire io non ti conosco ripeto da quello che leggo che c'è un dolore o un problema che bisogna attraversare quindi prima piangi vuol dire fai la fatica e poi avrai il successo non lo so può darsi che ci sia in ballo qualcosa un viaggio un lavoro una promozione qualcosa insomma un'evoluzione e quindi però per arrivare a questo bisogna prima soffrire che soffrire non vuol dire non vuol dire ammalarsi o cosa soffrire vuol dire fare fatica tanta fatica e quindi ecco non lo so perché così scritto così non capisco perché non c'è punteggiatura non c'è niente a del sogno precedente la fontana è vero sacco di pensieri da eliminare sì di solito è così la folla oppure tante feci fanno sì quelle mi riguardano pensieri a volte anche gli insetti allora sognato mia nonna defunta la cercavo in un luogo dove vi erano anche altre persone con dei banchetti e io mi sono avvicinata dove credevo che stesse lei perché volevo abbracciarla e non c'era più lì allora sono uscita in quello da quel luogo la cercavo poi suonata la sveglia suonata la sveglia e ho detto sto cercando la nonna e sono scese le lacrime la nonna è morta nel 2006 allora la nonna cercava un posto dove vi erano anche altre persone con dei banchetti a ok ho capito allora forse questo sognatore non sogna quasi mai la nonna e quindi la nonna fa sapere che lei cercava di mettersi in contatto credo c'erano anche altre persone con dei banchetti ai banchetti di solito si offre qualcosa quindi sono tutti disponibili probabilmente come vedo che scritto nel sogno che io mi sono avvicinata dove credevo che lei stava quindi vuol dire che tu la cerchi forse nel posto o nel modo sbagliato e quindi lei non riesce poi suona la sveglia e ti sono scese le lacrime perché la nonna non la vedevi probabilmente dal 2006 in questo senso credo che questo sogno voglia dire tua nonna ti voglia dire che se ti impegni riuscite a comunicare perché probabilmente il fatto che tu non la trovi e credi che stia lì e però non la trovi eccetera eccetera vuol dire che forse sbagli il il metodo abbiamo già parlato di questo anche in focus e quindi si possono ritrovare i nostri cari nei sogni come un po detto prima la signora di prima cioè ci si si pensa intensamente alla nonna a tutte le belle cose a come mi faceva la bistecchina l'ovetto sbattuto oppure quando mi ha detto quella cosa lì e magari ridere ma emozionarsi emozionarsi e poi la nonna si presenta perché ripeto come ho detto prima la nostra coscienza è sempre quella sia nella veglia che nel sogno e quindi noi non ci rendiamo conto ma siamo anche dentro al sogno adesso e quando siamo nel sogno siamo anche nella realtà quindi quello che noi pensiamo non ha spazio non ha tempo e arriva anche nel sogno il sogno è qui adesso mentre io sto parlando e delle volte mi è successo di sognare che le mie dirette quindi ecco questo intendo dire quindi se noi pensiamo intensamente a qualcosa che vogliamo sognare al massimo chi ci mette proprio tantissimo una settimana fa un sogno come lo ha desiderato più o meno ecco quindi sì anche con la nonna si può fare allora la signora di prima era il marito alla guida bene l'ho chiesto nel sogno in cui controlla il marito cosa dice perché mi guardi eccetera ho chiesto si guidava il marito perché di solito chi guida quando noi siamo in macchina la macchina rappresenta la nostra vita in questo periodo quindi se io sogno oggi che ho una panda allora forse io mi sento come qualcuno che ha una panda non può permettersi una macchina migliore se ho una ferrari allora sono a mille e quindi mi sento molto piena di energia e di poter fare tutto quando però la macchina guida qualcun altro allora vuol dire che noi ci mettiamo nelle mani di questo qualcun altro o diamo troppa importanza a questo qualcun altro quindi in questo senso nel sogno dove è il marito che guida il marito porta avanti la la vita di chi sta a fianco delle volte può essere l'amica che guida quindi magari porta avanti vuol dire che diamo molto peso molto peso che ci influenza questa persona quindi noi possiamo stare attenti a fare determinate cose proprio perché questa persona per noi è molto importante questo ecco solo per questo infatti io ero molto innamorata credo anche lui o di più ecco quindi è la la gelosia il controllo che si ha quando si ama qualcuno e si cerca di rifiutare il fatto che magari un giorno potrebbe non esserci più e quindi si sono cose che succedono salve mio marito ha sognato se stesso da neonato e che teneva in braccio e chi lo teneva in braccio cioè lui teneva in braccio se stesso se stesso da neonato e quindi se lui era un neonato non poteva tenere in braccio quindi magari se aggiungi cosa significa e poi mio figlio che veniva attaccato da un serpente allora potrebbero essere allora il marito che si sogna neonato è una bellissima cosa perché sogna le sue origini torna a se stesso nel senso che noi nel corso noi nasciamo bambini abbiamo i nostri istinti le nostre inclinazioni siamo puri abbiamo la nostra natura poi quando cominciamo ad andare a scuola e a lavorare a fare il mutuo e quelle cose lì noi non siamo più quel bambino però siamo se la nostra natura è quella sono cambiate le nostre credenze le nostre abitudini e magari a un certo punto ci rendiamo conto ci facciamo la domanda ma io in verità cos'è che voglio ecco questi sogni ti riportano alle origini quindi il marito probabilmente che ha sognato se stesso neonato è tornato indietro tornato indietro nel senso a porsi forse qualche domanda quindi sto seguendo quello che mi piace o devo cambiare questo può essere il figlio attaccato da un serpente potrebbe indicare la paura di qualcuno che possa nuocere a questo bambino a questo figlio non lo so potrebbe essere un insegnante una cattiva amicizia questo non lo so ma il serpente che aggredisce è come si dice cova cova la serpe in casa oppure non lo so quindi magari non piacciono gli amici che ha oppure ci sono delle persone che abbiamo paura che gli facciano del male di solito quando vediamo questo può essere ma il figlio rappresenta anche una parte di noi stessi perché quando io sogno i miei figli loro rappresentano sempre una parte di me sono una parte di noi quindi un bambino è un'altra parte di noi quale specchio migliore per farci vedere alcune cose quindi lì bisogna vedere se in realtà sei tu che ti senti minacciata e quindi che qualcuno ti morda o qualcuno che ti ha fatto male quando avevi l'età del figlio eccetera eccetera lì le cose sono un po più complicate da da analizzare e quindi li devi vedere devi vedere tu quali sono se ci sono queste paure o se non ci sono quindi io do l'infarinatura ho sognato una casa luminosissima con stanze enormi non riconoscevo la mia casa attuale ma passando davanti ad una camera io sapevo che quella era la camera di mio figlio ed ero consapevole del fatto che lui è nell'oltre e sono entrata per rifare il letto lo stupore è stato grande quando mi sono accorta che lui era lì sotto le coperte che stava dormendo lui si è svegliato mi ha guardato con i suoi bellissimi occhi azzurri e gli ho detto ma sei tu e lui certo che sono io e poi non vedo più la continuazione del del messaggio è sì allora la casa lumen luminosissima con stanze enormi credo che possa rappresentare l'enorme amore che porti nel cuore perché la luce è vita la luce è energia e quindi la luce purezza santità quindi questa casa che tu che ti rappresenta come sei adesso è piena di amore di luce di speranza forse rivolta anche all'oltre visto che il bambino è nell'oltre e quindi credo che lui ti abbia voluto fare questo regalo non vedo altro motivo non ci sono simbologie che possono indicare qualcos'altro credo che sia una visita che lui ti ha fatto per farti capire che sta bene e quindi vuoi andare avanti con le tue cose nella vita e lui sta bene anche lui probabilmente ha il suo percorso nuovo adesso sì credo proprio di sì i bellissimi occhi azzurri allora quando si sogna che si corre e qualcuno ti rincorre ma tu corri corri ma non riesci a scappare che vuol dire bellissima domanda sì è un classico quando nei sogni noi corriamo e le gambe a un certo punto si fermano pure noi ci sforziamo di però le gambe proprio non si muovono quelli sono dei momenti in cui noi non sappiamo cosa fare quindi nella realtà non sappiamo cosa fare allora il sogno ci blocca e siccome è proprio una sensazione fisica che sentiamo alle gambe non riesco vorrei urlare non riesco urlare quando non riusciamo a fare queste cose il sogno ci indica che dobbiamo fare una scelta questa cosa la vuoi fare o non la vuoi fare quando hai scelto io ti mollo le gambe e vai quindi in questo senso noi delle volte siamo facciamo delle cose non perché le vogliamo ma perché come diciamo noi ci tocca perché così faccio bella figura perché così è contenta la famiglia o perché così è contento il datore di lavoro ma in realtà noi non vorremmo è sempre il discorso della nostra natura che dicevamo prima quindi quando le gambe non ci portano vuol dire che siamo bloccati e non sappiamo se andare avanti indietro a destra o a sinistra questo riguarda qualcosa nella nella vita reale quindi una scelta il solito così succede anche che non riusciamo ad urlare vorremmo dire qualcosa a qualcuno ma non riusciamo allora anche lì vuol dire che problema di comunicazione con chi ho questo problema di comunicazione o magari ho sbagliato a parlare quindi meglio che non mi escano le parole allora penso al mio livello di comunicazione ecco sì molto semplici come vedete se si sanno queste cose qua poi si va avanti proprio lisci lisci nell'interpretazione buonasera daniela ho sognato mia madre defunta mi chiedeva se potevo aiutarla a stirare perché io non ce la facevo il giorno dopo l'ha sognata mia figlia e quello dopo ancora mio marito e lei voleva dargli 50 euro perché perché l'aveva accompagnata a fare una visita allora la mamma che chiede di aiutarla a stirare perché lei non ce la faceva stirare significa eliminare le pieghe quindi fare tutto bello liscio ed eliminare le pieghe le increspature deve essere tutto bello bello liscio può darsi che questa cosa riguardi la vostra relazione e quindi spianare le cose quindi creare armonia equilibrio forse qualcosa qualche pieghetta si stirerà fatica perché magari è un tasto dolente però la mamma ti aiuta in questo quindi è come dire facciamo pace chiudiamo alcune faccende che sono rimaste in sospeso poi se l'ha sognata anche la figlia è perché la cosa probabilmente di famiglia ogni famiglia ha i suoi segreti ha i suoi sensi di colpa o qualcuno che se ne va con i sensi di colpa qualcuno che rimane con i sensi di colpa eccetera ci sono tanti conflitti in famiglia diciamo che i nostri hanno l'origine tutti in famiglia i 50 euro al marito che l'aveva accompagnata non lo so il denaro rappresenta l'energia può rappresentare anche come fanno molti genitori che non sono capaci per come sono stati loro vissuti di dare amore con gesti d'affetto molti lo fanno attraverso i soldi e quindi esprimono l'amore attraverso la mancia attraverso la macchina nuova eccetera potrebbe essere quello poi non lo so come funzionava a casa vostra potrebbe essere quello allora buonasera sogno spesso di essermi persa non conosco dove sono e non so la strada per tornare indietro poi il cellulare ma non riesco a farlo funzionare cerco di parlare ma non esce la voce come ho detto prima e ho in bocca una cosa viscida che cerco di strappare e togliere perché non mi permette di parlare oppure sogno grandi salite e scale opposti dove mi devo arrampicare ma non ho la forza nei muscoli che faccio molta fatica e sento tutta la stanchezza e lo sforzo mi sveglio un po stravolta e allora in tutti questi sogni tu cerchi di fare delle cose che non riesci a fare e questo lo devi trasporre alla realtà come ho detto prima parlare non riuscire ad urlare o avere la bocca piena di chewing gum o piena di fazzoletti non riesco a tirarli fuori non riesco a parlare poi c'è salite che ti arrampichi ma non non arrivi mai alla fine e quindi probabilmente c'è qualcosa da sistemare o o qualche scelta da fare perché può darsi che questi sogni rispecchino il fatto che non riesci ad effettuare effettivamente una scelta però il sogno parla chiaro non riesce ad avanzare non riesce a parlare non riesce ad arrampicarti e ti perdi ti perdi e quindi quello che ti dice il sogno è che non sai nemmeno più tu dove vuoi andare secondo me e quindi in questo sogno secondo me potresti ragionare sulla tua volontà sulle tue scelte sul fatto che magari dici di sì ad altri ma tu in realtà non fai quello che ti piace ecco credo che voglio dire proprio questo vediamo allora ciao daniela l'unica volta che ho sognato mia madre lei era seduta su una macchina decappottabile mi era chiaro fosse quella di kennedy sapevo che ero alle sue spalle ma non si è girata a guardarmi e non lo so perché il fatto che sia specificato che era quella di kennedy quindi quella dove lui è morto non lo so se rispecchia il fatto che per te è stato un assassino cioè non dovevano toglierti forse questa mamma non lo so io la vedo così perché solo perché hai specificato la macchina di kennedy quindi forse questa perdita della mamma ti ha lasciato fatto sentire abbandonato un po come e jacqueline kennedy quando è è morto suo marito non lo so dico questo solo perché hai evidenziato la macchina di kennedy quindi io mi riferisco robert kennedy quindi credo che sia che sia quello poi altrimenti avrebbe un altro significato ma sapeva che ero alle sue spalle ma non si è girata a guardarmi vuol dire sono stato tradito abbandonato è un'ingiustizia eccetera forse la perdita ancora fa male non lo so poi fammi sapere allora ecco qui c'è la parte rimanente di un sogno che non avevo finì non riuscivo a finire di leggere allora del figlio che ha sognato la signora i suoi bellissimi occhi azzurri lui si è svegliato mi ha guardato con i suoi bellissimi occhi azzurri gli ho detto ma sei tu e lui certo che sono io e io ma sei vivo e lui guardandomi sorridendo ha risposto certo che sono vivo mi sono svegliata con una gioia immensa che ancora mi accompagna e sì per forza che vivo tutti siamo vivi non siamo mai stati morti e quindi noi cambiamo stato di coscienza la morte altro non è questo quando noi moriremo e ci troveremo in un sogno esattamente la stessa cosa un po chi ha visto il film no solar o altri film simili e vede che le persone magari a volte non si rendono conto di essersene andate un conto è uno che sa di dover morire allora si prepara ma se accade all'improvviso così uno magari non sa dove si trova magari non ricordava neanche mai i sogni si trova in questo posto strano e può essersi può anche spaventarsi e quindi lui dice certo che sono vivo perché in realtà la morte non esiste non esiste cambiamo stato di coscienza quindi sì sono d'accordo con il tuo bellissimo ragazzo con gli occhi azzurri sì allora una volta ho sognato un palazzo io che stavo in un appartamento con le tende che volavano al vento pieno di quadri di squadre di calcio e poi sono precipitata giù dal palazzo dovete scrivere un po meglio perché è difficile capire allora una volta ho sognato un palazzo io che stavo in appartamento con le tende che volavano al vento mentre il vento suppongo il palazzo era pieno di quadri di squadre di calcio e poi sono precipitata giù dal palazzo mi sono sentita prendere per il braccio tirarmi indietro il braccio verso le spalle per afferrarmi ho sentito la mano di qualcuno ma veramente ho sentito afferrarmi e ho sentito anche il braccio mio uscire dal corpo allora queste esperienze a volte si hanno quando si hanno dei delle esperienze fuori dal corpo ma non ci si rende conto effettivamente noi tutte le notti possiamo avere queste esperienze ma magari non le ricordiamo ma noi viaggiamo ve l'assicuro tutta la notte e quindi può darsi che sia questo il palazzo come dicevo prima rappresenta sempre la tua casa come ti senti tu e l'appartamento con le tende che volano al vento di solito nei sogni indicano un'uscita quindi un lancio dalla finestra per diventare per entrare cambiare il sogno entrare in un sogno lucido di solito funziona così quindi secondo me eri in una fase del sogno avanzata in cui avresti anche potuto fare un'esperienza di viaggio astrale però forse ci sono delle credenze che bloccano queste cose perché mi sono sentita prendere per il braccio tirarmi indietro verso le spalle afferrarmi la mano di qualcuno può darsi che alla fine tu sia entrata in una forma di paralisi del sonno oppure hai preso male questa esperienza sì aggiungo che le sensazioni che abbiamo in determinati momenti di forte emozione quindi anche la paura sono reali cioè noi li sentiamo come reali forse più che reali e succede anche al risveglio delle volte che noi sentiamo dolore lì dove abbiamo lottato il sogno succede succede spesso c'era questo signore che aveva sognato che nell'antico Giappone gli avevano tagliato la pancia con la katana e lui era morto dissanguato e sventrato la mattina si è svegliato e era tutto piegato con male alla pancia che non sapeva se andare a lavorare o meno quindi sì vi assicuro che sono reali è successo anche a me quindi allora ho sognato che stavo in mezzo dei defunti e li vedevo solo io e altre persone che erano lì e non lo so è troppo poco per poter dire qualcosa ci vuole almeno un'emozione cioè ero lì percepivo questo avevo paura mi sembravano strani eccetera eccetera queste sono le cose che ci vogliono anche nelle descrizioni dei sogni quando il sogno è breve è solo un'immagine allora va descritta l'immagine ho sognato mio marito io mi sfogavo con lui perché mi sentivo tanto sola senza di lui ma mentre gli raccontavo questo ho preso coscienza che lui era morto e allora mi chiedevo come era possibile che fosse con me intanto lui mi sorrideva e mi abbracciata forte mi sono svegliata felice sì io mi immagino con quell'abbraccio come dire ma sì che è possibile vieni qua sciocchina e ti abbraccia sì mi sembra una cosa così sono incontri sono incontri bellissimi e sono molto più frequenti ultimamente perché ci sono delle energie credo nell'aria che facilitano delle esperienze anche particolari è un paio d'anni che c'è questa cosa come diceva Marino di Tanno il sogno è bucato quindi alla volta esce qualcosa in più buonasera vorrei sapere come mai a serie alterne sogno i miei adorati genitori o le mie care ziette li sogno in situazioni familiari e nelle rispettive abitazioni è pur vero che li penso sempre ma non conduco io il sogno sono spettatrice e li osservo poi mi risveglio sono confusa poiché confondo il sogno con la vita reale e poi mi rattristo per la loro mancanza ma forse il il sogno vuole dirti proprio questo forse tu già le pensi molto e quindi ti rattristi per la loro mancanza perché quando il sogno è lineare e riporta pari pari quello che stiamo facendo vuol dire che questa cosa è fissa e quindi è un percorso di vita che noi abbiamo scelto quello di pensare sempre a queste persone forse il sogno vuole dire guarda che fra un po' te li trovi anche al supermercato non lo so nella serie è un pensiero fisso questo fa il sogno quando ci fa vedere pari pari come dici tu mi risveglio e sono confusa perché confondo il sogno con la vita il sogno ti ha fatto vedere quello che è la tua vita in questo momento e quindi forse poi il sogno non ha mai giudizio non dà mai consigli fa vedere com'è la situazione quindi se questa è la situazione vedi tu se continuare a pensare a loro in questo modo e perché ti mancano oppure cominciare magari ad occuparti delle cose che fanno parte della tua natura che avresti sempre voluto fare loro sarebbero felici sono sicura sì credo che sia così allora ho accettato la dipartita della mia mamma che si manifesta sovente ero contenta che avesse finito di soffrire ma probabilmente inconsciamente ho patito più di quanto pensassi sì di solito non so lo sento riferito forse al sogno del fango può darsi di sì e quindi magari noi quando usciamo da una situazione molto pesante molto dura per noi ci vogliono dei mesi se non di più prima di capire quindi può darsi di si può darsi di sì che ci sia qualcosa da da ripulire allora di notte sogno persone vivo situazioni come se fossi in una vita parallela vedo città monumenti mai visti meravigliosi sì è quello che facciamo tutti è normale noi quando dormiamo abbiamo accesso a tutte le informazioni quindi anche quando vediamo cose che noi ci chiediamo come facciamo vedere questa cosa che non abbiamo mai conosciuto mai visto vi ricordo che siamo tutti collegati e quindi noi possiamo vedere anche cose che altri hanno visto in un sogno noi possiamo trovarci in australia non essendoci mai stati e vedere dei paesini che in realtà esistono quindi questo è perché c'è un campo di informazioni infinito quando noi andiamo a letto è la realtà che è finita sembra finita per noi ma nel sogno noi abbiamo accesso a tutte le informazioni che ci sono nell'universo e quindi possiamo fare tutto ed è possibile anche ed è bellissimo fare queste tappe questi passaggi in vite parallele nel futuro nel passato nella preistoria nel cosmo come al centro della terra sono sogni che tutti tutti facciamo grazie complimenti grazie allora il sogno di prima ho sentito veramente la presenza di qualcuno che mi afferrò la mano per salvarmi e poi veramente mi sono vista la mano e il braccio uscire dal corpo sì era un'esperienza allora sì un'esperienza può darsi sì che ci sia stato qualcuno non lo so però come dicevo alla signora di prima puoi comunque chiedere di capire questo questa esperienza cosa è successo quindi ti focalizzi su quella la cambi la modifichi quindi dici io no voglio tagliare la scena intanto dove questo mi prende per il braccio voglio fermarmi alla scena che il braccio mi esce dal corpo e uscire dal corpo completamente e ad avere un'esperienza quindi noi ci facciamo questi copioni li rileggiamo ci pensiamo tantissimo e poi loro si manifestano nel sonno e quindi poi capiamo anche quello che non avevamo capito prima grazie daniela per la tua dolcezza e bravura stasera ascoltando le tue interpretazioni sto imparando tantissime cose e mi hai chiarito tanti aspetti simbolici che ritrovo anche in altri miei sogni grazie grazie mille non vedo i nomi che peccato devo imparare come si fa ciao daniela ho sognato che ero in un palazzo giravo per le stanze sono passato dal bagno e uscivo dalla finestra fuori dalla finestra c'era una parete rocciosa la parete cedeva ma comunque senza problemi sono salita sopra sul tetto c'era una caverna al suo interno un tempio con grandi figure statue al centro una candela allora mi sembra molto bello perché il palazzo indica una casa molto grande una casa molto grande vuol dire che ci sono tante cose dentro la tua casa perché è della tua casa che parliamo visto che nel sogno sei qui quindi tu giri per tutte le tue stanze per vedere bene come sei fatta che cosa c'è in questa casa quindi ti studi e fuori e fuori dalla finestra quindi non hai paura di guardare fuori di solito quando noi siamo in casa quando usciamo sul balcone o abbiamo paura di uscire sul balcone chiudiamo le finestre vuol dire letteralmente che siamo chiusi all'esterno cioè l'esterno non lo vogliamo vedere noi vogliamo vedere solo dentro la nostra casa quindi non accettiamo le opinioni degli altri non ci piace come fanno gli altri ci piace solo come facciamo quindi siamo chiusi invece in questo sogno esci dalla finestra è bellissimo vuol dire mentalità aperta aperta alle esperienze e c'è una parete rocciosa quindi qualcuno potrebbe vederlo come un blocco e invece tu non lo vedi come un blocco perché ti ci arrampichi e arrivi in cima questo è un sogno meraviglioso che secondo me fa vedere o un traguardo spirituale oppure un traguardo comunque nella vita anche il traguardo spirituale si si vive nella vita di veglia e quindi è un traguardo anche quello mi sembra proprio un traguardo di quel tipo a meno che non sia una celebrazione o qualcosa che è successo di bello comunque sì molto molto bello passato dal bagno poi quindi ripulito allora osservato se stesso osservato tutti i propri talenti difetti che in realtà non abbiamo li consideriamo difetti verificato tutte le stanze che ci sono dentro la tua casa quindi tutto il corpo tutta te stessa passi dal bagno ti purifichi e poi esci fuori verso il nuovo verso qualcosa di diverso quindi mi sembra bellissimo la caverna che c'era in cima e il tempio la caverna mi sembra è proprio un luogo di protezione dove gli eremiti si ritirano e sono protetti e nessuno fa loro del male perché sono lì a meditare a pregare quindi la caverna la vedo proprio come un luogo di protezione che hai trovato in questo tempio sì credo che sia così anche la candela è la luce la luce che tiene viva forse questa non so se è una religione un modo di meditare comunque questo modo è la tua luce la candela accesa nella tua vita credo credo di sì grazie per l'interpretazione mi ci sono trovata eccetera daniela grava dolce grazie grazie a tutti vi ringrazio ok vediamo un sogno che mi ha terrorizzata e mia colpa mia capita e mi allora un sogno che mi ha terrorizzata che mi capita ogni tanto che mi vogliono uccidere in ogni modo con ogni arma e scappo mi sono dovuta svegliare avevo fiatone dalla paura allora morire nel sogno e cambiare io ho sognato una volta che moriva mio figlio e quindi nel sogno sembrava anche normale però io avevo cura di lui però lui è morto e allora io a un certo punto ho detto cosa faccio cosa non faccio poi vedo che lui si rialza si accende una sigaretta e quindi è di nuovo vivo e questo ha sognato che lui moriva perché perché lui partiva partiva per andare per la sua strada quindi all'estero lontano e quindi non c'era più il mio bambino era diventato un uomo che è cambiato e anche qui qualcuno che ti vuole uccidere quel qualcuno probabilmente è il tuo qualcosa è un'altra parte di te che ti vuole ucciderti perché vuole che tu cambi nel senso il fatto che qualcuno ti rincorre continuamente in ogni modo ti voglia uccidere significa guarda che devi cambiare la te che sei adesso deve morire deve nascere un'altra te io non lo so se c'è in previsione qualcosa nella tua vita che potrebbe farti cambiare ma che rifiuti potrebbe essere non lo so domandarsi mi devo sposare o non mi devo sposare devo comprare quella casa non devo comprare quella casa non lo so qualcosa che delle scelte che tu non riesci a fare per cambiare e quindi di solito qualcuno che ci vuole uccidere è una paura che noi abbiamo in questo senso probabilmente di cambiare potrebbe essere anche qualcos'altro un altro sogno ogni volta che sogno mio marito mi lascia sempre una grande gioia mi rincuora ciò che dici quindi in ogni sogno che faccio mi incontro realmente con lui grazie daniela allora in realtà io questo non lo posso sapere ma tu sì e quindi quando tu lo vedi se questo è il tuo pensiero lui così poi cioè è così è lui realmente noi non siamo separati dai nostri cari è l'energia che noi percepiamo siccome noi siamo fatti di carne e abbiamo i cinque sensi noi vogliamo abbracciare baciare parlare in realtà l'energia il corpo emotivo il la luce che noi siamo non muore mai e quindi il marito non è morto il marito c'è 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 una differenza di stato di coscienza una differenza vibrazionale ma nel sonno è più facile perché noi siamo tranquilli la razionalità è un po' spenta quindi i canali si aprono e riesce il contatto poi però dipende dalla percezione del sognatore è come la signora di prima che io l'ho sentito davvero il braccio quindi è una certezza lo stesso vale con questi incontri se noi siamo eccoci scusate si è interrotto qualcosa e quindi sì siamo solo noi a saperlo però vi assicuro che succede a moltissime persone di incontrare ogni settimana i propri cari si allora buonasera daniela nel sogno mi sono vista come se osservassi dal basso come se avessi attraversato il pavimento in quella stanza in penombra ho visto tre persone vestite di bianco che parlavano tra loro quando una di queste mi ha visto con un movimento della mano sorridendo bonariamente mi ha provocato dolore al piede e mi sono sentita risucchiare nel mio corpo sì sì esatto funziona così funziona così quindi quando tu entri nel pavimento nel muro nel tappeto allora lì siamo in un'esperienza astrale però non ce ne accorgiamo quindi per esempio qua qualcuno bonariamente ti ha fatto male al piede lì ti sei accorta però anche svegliata quindi si funziona così però vi assicuro che noi viaggiamo veramente ogni notte e quindi essere consapevoli dei nostri sogni è avere un quarto della nostra vita in pugno quindi noi prendiamo noi occupiamo più o meno il 20 30 per cento a dormire di tempo a dormire fra pennichella e sonno notturno è il 30 per cento della nostra vita che noi ci scappa via non la vediamo e se invece ci ricordiamo i sogni ci ricordiamo anche tutte le nostre avventure che sono utili se interpretate io spesso in vita mia ho sognato e ancora sogno per esempio ieri che partorisco nascono bimbi nuovi oppure i miei già bambini da bambini sì significa che c'è qualcosa di cui prendersi cura i bambini come dicevo prima poi bisogna vedere il contesto nella tua vita non lo so ma in generale i bambini rappresentano dei progetti che chiedono cura per poter crescere e svilupparsi quindi può trattarsi di lavoro o di qualsiasi altra cosa che richieda impegno può essere anche l'accudimento di una persona allettata e quindi non lo so però sì bambini sono simbolo di qualcosa che deve crescere qualcosa che c'è già e che noi dobbiamo accudire e dobbiamo accompagnare nella sua crescita quindi un progetto di qualsiasi tipo secondo me ecco anche nel sogno di prima devo cambiare lavoro quello che faccio non lo sopporto più sì ecco di solito è così quando l'inconscio spinge vuol dire che prima o poi una scelta la dobbiamo fare quindi come dicesse tante volte tante volte tanto sì se non è oggi e domani dovrò farlo si è bloccata la diretta sì sì ho visto ho visto va bene allora io vi ringrazio spero di esservi stata utile e mi fermo qui perché poi insomma diventano tanti diventa impegnativo però mi piace molto far vedere alle persone che sono cose che potete fare anche voi stessi quindi magari lo facciamo anche un'altra volta visto che ho visto che vi è utile e quindi sì magari mi metto a disposizione anche nelle altre puntate a fare almeno un po di interpretazione intanto io ringrazio tantissimo Enrico e Anna per il lavoro ringrazio voi tutti e vi auguro tanti bei sogni tanti bellissimi incontri e una buona serata grazie